Atti sessuali con uno minore di 14 anni di ostuni, detenzione di materiale pornografico sia sul telefono cellulare che sul computer che hanno permesso di rilevare l'esistenza di almeno altre 5 vittime, tutte minori della città bianca, di età compresa tra i 12 e 14 anni adescati su Facebook. Rischia una pena da 6 a 12 anni di reclusione RC, queste le iniziali del ventenne ostunese per il quale gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni che hanno effettuato le indagini del caso hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura coercitiva emessa dal Tribunale di Brindisi per firma del giudice per le indagini preliminari Paola Liaci su richiesta del pubblico ministero Francesco Carluccio. Le indagini che hanno portato alla misura coercitiva sono iniziate nel febbraio 2016 quando la madre di un ragazzo di 13 anni aveva informato alla polizia di aver scoperto insieme all'altra figlia che il ragazzo dopo aver conosciuto tramite la sorella il ventenne indagato aveva subito molestie sessuali. In poche settimane RC il molestatore aveva carpito la fiducia del minore tanto da convincerlo a inviargli tramite la chat whatsapp del cellulare alcune foto in cui era ritratto nudo e in seguito mediante pressioni psicologiche lo aveva convinto ad appartarsi sia nella sua abitazione che nel boschetto vicino al circolo tennis di Ostuni subendo palpeggiamenti nelle parti intime baci sulla bocca e rapporti orari. Scoperto tutto ciò i genitori hanno vietato al minore di vedere ancora il suo molestatore che di tutta risposta ha minacciato la famiglia che se non gli avessero consentito di vedere ancora il tredicenne gliel'avrebbe fatta pagare. Nonostante queste le molestie sono proseguite fino al punto che il ragazzo nel frattempo raggiunti 14 anni era ormai succube del molestatore come dimostrano anche le conversazioni che vedete nelle immagini ricavate dal cellulare del minore dalla polizia. Il ragazzo si sentiva ingiustamente in colpa nel momento in cui su richiesta dell'indagato di fare delle determinate cose si rifiutava e veniva punito con derisioni e accuse che lo facevano sentire inutile e immaduro tanto da indurlo a fare tutto ciò che voleva il ventenne. Le indagini hanno permesso di riscontrare appieno quanto dichiarato dalla madre del minore. Il telefono cellulare e il computer dell'adulto sono stati così perquisiti e sequestrati. All'interno è stata riscontrata la presenza di foto e materiale pornografico con la scoperta come detto di altri 5 minori tra i 12 e i 14 anni tutti gli ostuni a loro volta vittime dell'indagato. Ad RC è stato quindi fatto di vieto assoluto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal minore e dalla sua famiglia in particolare l'abitazione mantenendo comunque una distanza non inferiore ai 500 metri con divieto totale di comunicare con il 14enne anche in forma scritta a mezzo telefono o internet pena l'aggravamento della condizione penale.